Come trovare la completa guarigione, con la potente preghiera a Santa Madre Teresa. Il rimedio miracoloso per qualsiasi malattia. Nei momenti di profonda tristezza, quando i nostri cuori si spezzano per noi stessi o per i nostri cari che soffrono a causa della malattia, cerchiamo la potente intercessione dei Santi che hanno camminato tra noi, portando luce nei luoghi più oscuri. Santa Madre Teresa di Calcutta, le cui mani hanno toccato gli intoccabili e il cui cuore ha accolto i rotti, è un faro di divina compassione. Comprendeva l'angoscia della sofferenza, il peso della malattia e la quieta, disperata speranza di guarigione. Attraverso questa sacra preghiera di guarigione, invitiamo la sua amorevole presenza nelle nostre vite. Con fede incrollabile, invochiamo il suo aiuto affinché interceda per noi davanti al Signore, portando non solo conforto, ma una trasformazione miracolosa del corpo, della mente e dello spirito. Ecco la potente preghiera di guarigione a Santa Madre Teresa di Calcutta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Beata Santa Madre Teresa di Calcutta, Santa dei cuori spezzati, dolce serva dei malati e degli affaticati, oggi ci rivolgiamo a Te, portando dentro di noi il peso della sofferenza. Con umiltà e speranza, portiamo il nostro dolore davanti a Te, confidandone la grazia della Tua intercessione. Santa Madre Teresa, tu che hai visto la luce di Dio nei luoghi più bui, tu che hai tenuto tra le braccia i morenti, i bisognosi, i dimenticati, guardaci ora nel nostro momento di bisogno. Guarda la malattia che tocca le nostre vite e sollevala con le Tue mani tenere e guaritrici. Santa di misericordia e compassione illimitata, lascia che le Tue preghiere portino le nostre suppliche al Signore, che è la fonte di ogni guarigione. Intercedi per noi, affinché i nostri corpi, le nostre menti e le nostre anime possano essere purificati, liberati dalle catene della malattia, del dolore e della disperazione. Con grande amore, hai confortato gli afflitti, quindi ora ti chiediamo di portare conforto ai nostri corpi e pace ai nostri cuori. Stai al nostro fianco come custode di forza e non lasciare che alcuna malattia abbia potere su di noi. Dove c'è debolezza, porta resilienza, vi dove c'è tristezza, porta speranza, vi dove c'è dolore, porta sollievo divino. Madre Teresa, anima benedetta che hai percorso il cammino dell'amore di Cristo, prega per noi affinché ogni fibra del nostro essere possa essere guarita, affinché ogni cellula possa essere rinnovata con la vitalità della grazia di Dio. Tocca le nostre ferite, sia quelle visibili che invisibili, e riempile con la tua compassione. Lascia che ogni dolore si dissolva, ogni febbre si raffreddi, ogni sofferenza trovi pace. Cara Santa, ti chiediamo di benedire le nostre vite e quelle di coloro che amiamo. Tienili vicini nelle tue preghiere, perché crediamo nella forza della tua intercessione. Sappiamo che sei vicina al cuore di Dio e che Lui ascolta ogni tua parola. Attraverso di te, possa la sua luce guaritrice raggiungerci, portando benessere a tutto il nostro essere. Stai con noi nella nostra sofferenza e guidaci verso la salute e l'integrità. Non lasciare che alcuna paura ci disturbi, né che la tristezza ci sopraffaccia, perché con te al nostro fianco, non siamo mai soli. Benediciaci con uno spirito di coraggio, come avevi tu, affinché possiamo affrontare ogni giorno con speranza. Attraverso il tuo amore, ripristinaci alla salute, nel corpo, nella mente e nello spirito, e riempici con la pace di Dio. Ci affidiamo a te, Santa Madre Teresa, affinché la nostra guarigione possa essere completa e che i nostri cuori possano trovare gioia di nuovo. Nella nostra salute ristabilita, possiamo camminare in gratitudine, portando avanti il tuo lascito d'amore, carità e devozione a Dio. Chiediamo questo, con piena fede e cuori umili, attraverso la tua santa intercessione. Amen Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Grazie a tutti Grazie a tutti